Ora più che mai sentiamo il bisogno di pregare, di pregare i nostri santi, di pregare San Sebastiano. Così il sindaco di Palazzolo a Creide, Salvatore Gallo, al termine del pontificale per la festa di San Sebastiano, tanti i fedeli che hanno partecipato alle sante messe in onore del santo protettore, sempre nel rispetto delle misure anticontagio, mantenendo quindi il distanziamento interpersonale ed indossando la mascherina. Lo festeggiamo meglio di come è stato festeggiato negli altri anni, perché sentiamo il bisogno di accostarci alla fede, di accostarci a chi in questo momento, in questo mondo, ci deve proteggere. Noi forse non ci riusciamo, forse ancora non abbiamo capito che la pandemia non è finita, non è ultimata. Lo vediamo in questi giorni con una nuova recrudescenza dei casi nella nostra provincia. Non abbiamo capito ancora che ci dobbiamo proteggere, e i primi che ci dobbiamo proteggere a saperlo dobbiamo essere noi. Non ce lo deve imporre nessuno, ma noi stessi dobbiamo imporci delle regole rigide, nel distanziamento sociale, nell'usare le mascherine, nello stare attenti a non frequentare luoghi dove c'è assembramento. In questo momento, con l'aumento dei nuovi contagi da coronavirus anche in provincia di Siracusa, a Palazzolo ci si affida San Sebastiano. La prossima festa, nella cittadina del Siracusano, sarà per Sant'Antonio.